Ciao a tutti dormiglioni, gameroni e non... come state? Spero tutto bene. Oggi nuovo gameplay di Fortnite, vediamo se riusciamo a replicare quanto ho fatto nella giornata di ieri. Ma prima io voglio assolutamente andare a cambiare un paio di cose al personaggio. Insomma raga, mi sono stufato di avere questo deltaplano, cioè veramente raga, pieno, pieno. Questo è carino, potrebbe essere simpatico, ma tipo no, cerchiamo qualcosa di... non lo so, di particolare raga. Cioè è vero che non è che io abbia grandi cose, ok? Ma quello lì mi ha veramente dato noia, mi ha veramente dato noia. Usiamo raga l'ombrillino acquatico? No, usiamo... ma raga sapete cosa? Prendiamo questo, prendiamo questo, guardate per il momento va bene questo. E poi anche questo raga, mentre stanno passando delle moto, vabbè. Per non farci mancare niente, prendiamo tipo... non lo so raga, veramente questo, con le palle da biliardo. O quello con i pop corn. Andiamo di pop corn ragazzi, pop corn. Perché vi giuro mi aveva dato veramente noia quello che c'era prima. Allora, fatto ciò, iniziamo subito la ricerca della partita. Io vi ricordo, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, seguitemi anche sulle varie piattaforme social, insomma, che avete visto in grafica all'inizio del video. Vi ricordo che mi trovate anche su un altro canale YouTube, il mio canale principale, che si chiama Luca ASMR. Dove ogni lunedì alle 22 pubblico video ASMR, più tranquillini rispetto a un gameplay. Sto continuando a guardare di qua raga perché voglio avere la certezza che stia registrando sia il video che l'audio. Sembra di sì, ok. Allora, nella puntata di ieri siamo riusciti ad arrivare in modo estremamente soddisfacente, mantenendo la calma ad un risultato valido. Vittoria, come potete vedere dalla corona che ho attorno alla capoccia. E vediamo, insomma, se oggi riusciamo a fare altrettanto. Io ho seri tubi, probabilmente morirò, tipo, subito, ok, in tutte le partite. Quindi, vabbè, vi ricordo comunque che questo sia un canale gameplay, ma è un canale gameplay ASMR. Quindi siamo qui per giocare rilassandoci. Non ho capacità di gioco, non sono schillato. Insomma, se volete vedere un nappo che gioca, siete sul canale giusto. Altrimenti, raga, sceglietene un altro. Io non mi offendo e continuiamo a essere amici virtuali a distanza, ok? Ok. Allora, mancano 10 secondi. Vediamo cosa riusciamo a fare. Vediamo quale zona potremmo andare direttamente su spande schiaffose. Dovremmo trovare a questo punto, mi sembra di aver capito, i droni, se non sbagliono. I droni abbiamo capito ieri che hanno roba simpatica dentro. Quindi potrebbe essere un buon punto per trovare delle armi valide e provare a combinare qualcosa. Anche se non ricordo male, nella prima partita ho perduto i droni e sono comunque morto tipo trentesimo, ventinovesimo, da quelle parti lì. Non male, non male, ma insomma, si poteva fare meglio. Allora, vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Mi sa che però non ci sono, ah no, no, non ci sono anche qua i droni. Ok, allora io direi di prendere tipo subito questo. Ok, mi piace, mi piace. E vediamo se riesco a... Sarpevi che divertente se riesci a farlo fuori ancora prima che tocca terra? No, eh, no. Chiaramente, troppa grazia. Ah, vieni su, vieni su, dai, vieni su, vieni su, vieni su, vieni su, dai. Ah, si stanno già a fare fuori da soli. Capisco, capisco. Si sono fatti fuori, raga. Mi sa di... no, non ancora, circa, circa. Ok, c'è qualcuno che sta entrando, uscendo. Ma usa la porta, usa la porta, maleducato, maleducato. Vabbè, comunque, direi di proseguire il nostro percorso, raga, altrimenti qua non finiamo più. Allora, ho visto che c'era un drone, eccolo qua, drone, drone, tac, tac. Ok, andiamo a vedere cosa ci ha dato il drone. Dove è finito il drone? Dove è finita la roba del drone, guys? Where is la roba del drone? È finita nel fiume, ok. C'era anche quello che non mi dispiaceva. Ok, andiamo a prenderlo subito. Bene, 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 bene. Ok, benissimo. Poi, andiamo a vedere cosa abbiamo. Metraglietta? Sì, per carità, perché no? Per cominciare, ci può stare. Mi stanno a sparare, raga. Mi stanno a sparare. Ok, ma... Ehi, 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 ehi. Ma sei un figliacco. Cioè, colpa anche mia che, insomma, ho visto che mi sparava e sono rimasto lì ad aspettare. E vabbè, ragazzi. Sono arrivato primo la volta scorsa. Non è che potessi aspettarmi grandi cose, d'altronde. Vabbè, colpa mia. Ero troppo calmo della seta. Andò, sta a sparare. Non me sta a prendere. Figurati se me fa fuori. Raga, potevo farcela comunque. Forse, vabbè, allora, vi metto un attimo in pausa, così che quando incomincio la partita ripartiamo e non abbiamo dei tempi morti biblici. Ok, siamo di nuovo collegati assieme. Per voi è passato pochissimo. Per me è passato tipo due minuti erotti. E siamo qui, pronti a partire in due, uno, qui... Ok, raga. Allora, prima ha giocata malissimo, però, va detto questo, era quella di riscaldamento. Era quella di riscaldamento, ragazzi, ormai l'avete capito. La prima partita, se va bene, ottimo, se va male, è colpa del fatto che è la partita di riscaldamento. Devo prendere le misure, ok? Anche se è sempre il solito gioco, ma voi fate finta, fate finta assieme a bene mentre mi sta venendo il singhiozzo. Perfetto. Ieri il raffreddore. Oggi il singhiozzo. Siamo a cavallo. Allora, vedo qui qualcosa di oro. Sarà sicuramente uno di quelle lance. Ipotizzo. Sì, infatti. Ok. Prendiamo anche questo. Allora, cicciolino, dove sei finito? Ti ho visto che sei venuto giù qui, eh. Ti ho visto. Ti ho veduto. Ti è scappato? Hai fatto bene. Hai fatto la scelta, saggia. No, no, eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì. Ciccino, pasticcino, vieni qui. Ehi. Dai, dai, vieni qua. Vorrei mica farti mancare. Eh, dai. Grande, grande. Fantastico, fantastico. Ok. Allora, prima uccisione della partita fatta. Prima, raga, ho fatto uccisioni? Forse no. Forse no. No, non ho avuto il tempo. Non ho avuto il tempo neanche prima di provare a fare un'occisione, quindi. Ho fatto un giro assurdo che poi bastava che prendessi le scale di là. Vabbè, ragazzi. Era tutto calcolato, era tutto calcolato naturalmente. Allora. E di nuovo qui? Di nuovo qui così? Siamo dei caffoni qui? Che cos'è questa storia? Chi è che spara? Chi è che osa sparare? Dove sei? Vieni fuori se hai coraggio. Dove sei? Dove caffi? Ah, sei sul tetto. Ok, sei sul tetto. Perfetto. Giusto per capire, eh. Allora, vieni pure, io ti attendo. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Non ho fretta. Ok, sta arrivando. Pam, 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 pam. Scemo, scemo, scemo. Più scemo io, raga. Più scemo io. Vabbè, ci abbiamo di nuovo provato. Raga, ve l'avevo detto che finiva così. Ve l'avevo detto che finiva così questa partita. Ok, stiamo di nuovo per fare una nuova partita. Raga, questa ve lo dico per oggi è l'ultima. Cioè, o proprio muoio come primo e allora ne faccio un'altra perché davvero sarebbe eccessivamente corta come partita. Altrimenti, raga, vada come vada, questa sarà l'ultima della giornata perché, cioè, capisco quando è il momento no. Capisco quando è il momento no. È inutile accanirsi con il destino quando, insomma, chiaramente il destino non ti vuole far andare avanti. Allora, atterriamo subito dove siamo. Ah, paia, blocca. Blocca che? Blocca flutti. Ok. E andiamo a vedere qui se riusciamo subito a prendere qualcosina di valido. Tipo qui, tipo qui, tipo qui. Tipo qui, no. Lucchino scappa, che te fanno fuori di nuovo. Lucchino scappa. Raga, non ho di nuovo armi. Non ho di nuovo armi. Oh, pazzo. Raga, sono veramente un deficiente. Un grande deficiente. Cioè, non ci sono altri termini, ok? Non ci stanno. Allora, adesso ci mettiamo qui come bravi deficienti e ci curiamo. Cioè, ma raga, ma io non lo so. Ma l'intelligenza... Ok, cioè, ho saltato, pensavo ci fosse tipo l'acqua subito sotto. La verità è quella. Ok, se stanno già sparicchia, ragazzi. E io ho un'arma che spara non lento. Di più. Di più. Quindi prendiamo la larga. Tipo, estremamente larga. Oh, bene, bene, bene. Andiamo a prendere subito qualcosa qui che almeno... Siamo un pochino tutelati, ok? Nel caso. Se no, finisce non male, peggio. Dai, prendi questo che ci piace. Prendi questo, bravissimo. Bravissimo. Vediamo un po' di munizia. Dai, dai, dai. Non devi toglierti da qui, sei spostissimo. Zitto e nuota, zitto e nuota, e nuota, e nuota, e zitto e nuota, e nuota, e nuota. Ok. Allora. Bom, 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 bom. Laggiù vedo un forziere. Proviamo ad andare da prenderlo. Ok. Ok. Whoop. Come, come è? Ok. Così. Perfetto. Ottimo. Allora, dai, raga. Prendiamo subito questo. Prendiamo subito un po' di salute extra, che qua ci abbiamo fatti veramente... del caos. Questo è? Ok, che cos'è? Fucile d'assalto silenziato. Ok. Vabbè, per ora stiamo così. Questo credo di non averlo mai usato. È possibile. là c'è un me di nebbia. Sì, c'è un me di nebbia che prendiamo così. Ok. Poi saliamo. Allora, devo dire... Vabbè, prendiamo la me di nebbia. Ma di nuovo, ragazzi? No, basta, eh. Basta, basta. Che cos'è questo? Ma stiamo scherzando, raga? Raga. Ma io sono sconvolpasito. Dai, salta su. I'm waiting for you. Magari se non è tu già non vedi l'ombra. Ora lui penserà che io mi sono buttato in mare, forse, vero? La mia speranza è quella. Ok, è in mare lui. Cercami pure in mare. Cercami tranquillamente in mare. Io mo' de faccio il cuccoo a strisce. Forse. No, eh? No, no. Allora, vediamo cosa ci dà. Mastro di chiavi. Andiamo col mastro di chiavi, raga. Che odio la gente. Ma perché non mi lasci giocare in pace, dico io? Vabbè. Ho bisogno di capire dove è andato sto tipo, però. Che ansia. Ok, il tipo è cascato. È risalito. Eccolo laggiù. O era un pesce? No, raga, eccolo di nuovo, eccolo di nuovo. Vieni qua. Vieni qua che ora ti faccio il cuccoo a strisce. Vieni qua, sei coraggio? Brutto, cavro. Vieni qua. Vieni qua. Dove sei? Oh, godo, ragazzi. E dai, e se tu arrivi qui e pensi di farmi così fuori come ti pare a te. No, stella, non hai proprio capito un cazzo di niente. Ok, allora adesso andiamo a prendere lui. Lo assolidiamo. Ehi, 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 vieni qui. Ok. Raga, ce l'ha... Ok, ma noi siamo safe. Vediamo se riesco in tento. Intanto a curarmi un pochino. Giusto per... Ah, raga, che soddisfazione posso dire. Cioè, è arrivato questo, pensava di farmi affette. E invece no. E invece no. E invece no. A parte che posso prendere questo anche, raga. Tipo... Ok, aspettiamo perché ne spreco uno. Se no prendiamo questo. Ok. Allora, devo dire... Come inizio possiamo starci. Lo accetto. Lo accettiamo. Lo accettiamo. Ok. Uh, DMR, raga. Ebbè, lo prendiamo, DMR. Lo prendiamo anche questo. Ok. Guardate che mi segnala che ci sono le... Le lucciole per dare fuoco a tutti. Ormai Fortnite mi conosce. Ormai Fortnite mi conosce. Allora, aspettiamo che qui vada su. Anche se poi in realtà qui non c'è mai niente di valido, raga. Ce lo sappiamo tutti ormai. Però va bene così. Aspettiamo. Aspettiamo. Tatarata. Quanto ci andrò ancora? 15? 14? 13? 12? 11? 10? 9? Non l'ho fatto prima. Non l'ho fatto prima. Ok, vediamo cosa ci abbiamo. Fucile d'assalto silenziato marasma. Vabbè, non è quello che preferisco, ma va bene uguale. E fucile pesante automatico specialista. Ueila! Bene, raga. Ora sì che possiamo andare. Mettiamo il pepe a qualcuno. Ok, apriamo una taglia. Andiamo a vedere qui i pauli. Dove stai? Al piano di sopra. Stai al piano di sopra. Non c'è problema. Ma saliamo noi, saliamo noi. Forse. No, raga, non riesco a salire. Ma perché? Uffa. Vabbè, lo tiriamo giù così. Che problema c'è? DMRQ. Raga, dai, questa partita assolutamente pretendo che... No, rimane. Vabbè, sapete cosa? Per lasciarla qui io mi curo e poi riprendo quelle piccole. Mi rendo conto che è sprecato, però, dai. Allora, questa partita, raga, cioè, pretendo di arrivare a fare qualcosa di buono, perché dai, ho delle armine che tutto sommato non mi fanno schifo. Cioè, urlano proprio, Luca, devi qualificarti almeno in top 5. Almeno in top 5. Perché se non riesco a qualificarmi in top 5 con queste armi, cioè, abbiamo sbloccato un nuovo livello di... di una pagina, raga, cioè, ok, ok, cioè, io pretendo di farcela. Urca, 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 che c'è? Sei una carogna! Sei una carogna! Sei una carogna! Cioè, ho appena fatto tutto un bel discorso, no? Sblocchiamo un nuovo livello di una pagina. Raga, è sbloccato. È sbloccato. Va bene. L'universo ha parlato, non è cosa, non è assolutamente cosa. Va bene così. Io te ascolto. Non gioco più per oggi, non gioco più per oggi. Io spero che questo video vi abbia, quantomeno... Non lo so, fatto fare due risate alle mie spalle, perché... altra soddisfazione non può avere. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video. Spero un filo più soddisfacente di questo. Questo per me è stato veramente tragico, ragazzi. Tragico. Capita. Buon proseguimento di relax a tutti. Ciao.